Ecco l'entrata in campo delle due formazioni Virtus Castelfrentano alla mia sinistra Vastese Calcio alla mia destra con la divisa bianco rossa mentre la Virtus Castelfrentano e la classica giallorossa. Il direttore di gara è della sezione AIA di Chieti, due tempi da 45 minuti per il campionato provinciale categoria allievi under 17 e il direttore di gara è della sezione AIA di Chieti.